Ciao ragazzi, siamo qui in Emu Park. Emu Park è giusto un'oretta di bus da Rockhampton dove sono stato ieri e oggi è giusto perché non volevo restare più in città perché tanto l'avevo già vista, ho preso il bus e sono venuto qua. Questa qui è la vista che possiamo avere dal di qua, questo qui è un altro monumento a James Cook che esplorò diciamo queste coste e qua giù, la qui dietro e mi sembra anche questa qua, abbiamo le isole Keppel e credo che questa qui centrale sia la più famosa, la Great Keppel Island dove è praticamente famoso per le sue bianche spiagge che circondano l'isola.